Ehi, benvenuto nel mio nuovo video. Ti consiglio di passare nella descrizione dove trovi tutti i miei social, soprattutto passa dal sito Viola dove streamo tutti i giorni, Instagram per rimanere aggiornato su video e live e Discord per chattare con me ogni tanto. Inoltre ti consiglio di iscriverti al canale dato che ho scoperto attraverso YouTube che molti di voi non sono iscritti. Detto questo, buona visione! Ciao ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi siamo qua per andare appunto ad usare Stu. Come vedete l'ho sbloccato, l'ho già portato al livello 8 e oggi andremo a cercare, irrispettivamente, prima a portarlo al livello 9 ed infine poi ad aprire alcune casse per cercare Star Power e Gadget. Detto questo, poi vi andrò a parlare un po' della nuova modalità, di come sta funzionando il gioco in questo momento che come sapete è molto molto in movimento. E sicuramente andremo a commentare assieme tutto ciò di cui ce l'ha a commentare. Ho preso 100 potenziamenti per Stu, direi di andarle a prendere ulteriori 100 che sicuramente fanno molto bene. Arriviamo a 546 su 550, di conseguenza ci mancano soltanto 4 potenziamenti che direi che si possono trovare molto facilmente in una di quelle casse piccoline. 4 potenziamenti giusto proprio per sbloccarle. Mentre andiamo a sbloccarci anche le emoticon del cane, del ringhio, così almeno ce le abbiamo salvate. E siamo a posto, non abbiamo nessun tipo di problema con il ringhio. Quindi andiamo a risquattare tutte le emoticon che sicuramente sono molto molto carine e coccolose. E niente, infine direi di andare a prenderci una cassetta Brawl molto molto tranquilla per andare a prenderci 4 potenziamenti nostri del nostro Stu. Il nostro Stu è a 550 e quindi possiamo portarlo a livello 9, prima cosa che facciamo, lo andiamo a selezionare, eccolo qua, a livello 9. Adesso non ci resta che trovare il gadget e la Star Power. Per trovare il gadget e la Star Power io andrei ad utilizzare le casse della stagione precedente che sono abbastanza. Andiamo, eccole qua, subito il gadget, eccolo qua. Gadget Turbo, Stu posiziona un dispositivo che mette la velocità e quindi niente, abbiamo sicuramente il nostro gadget, eccolo qua. Adesso ci serve soltanto più la Star Power, abbiamo 38 casse per trovarlo, sicuramente sarà un pack opening abbastanza abbastanza forbito. Cerchiamo di arrivare a 20 casse sperando di trovare qualcosina, anche se non so se sarà effettivamente così. Andiamo a spacchettare, allora 30, dai 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 dai, facciamo qualcosa di sicuramente interessante. 29, qua solo oro, ci sta dando soltanto oro, ci sta dando veramente una carrellata di oro. Proprio una carrellata, tanto tanto. Però sicuramente l'oro non fa assolutamente male, anzi, molto molto buono l'oro. Quindi sicuramente oro ne abbiamo preso. Siamo a 23 casse rimanenti, quindi come vi ho detto arriviamo a 20 per fare cifra tonda. E ce ne teniamo 20 per un prossimo box opening, caso mai uscisse un brawler. Abbiamo una mega casa, speriamo nello skip. Eccolo qua. Skip luminoso arrivato, attrito zero sbloccata. Abilità stellare di Stu e ce l'abbiamo maxato. Eccolo qua, il nostro Stu maxato. Eccoci qua, il video ha subito un breve timelapse. Ci siamo trasformati a 32.838 coppe. 655 coppe con il nostro Stu, quindi diciamo che l'ho testato. Vi so dire adesso bene come funziona il tutto. Questa è la mia situazione dei pass. Ci approfitto in questo pass per andare a sbloccare le ultime cose che ci rimangono essenzialmente. In particolare le reazioni del colonnello ringhio che devo ancora sbloccare perché purtroppo lo lasciate qua da queste parti. Eccole qua. Andiamo a sbloccare anche questa. Questa qui. Ne abbiamo veramente un sacco da sbloccare. E in un video poi andremo anche a sbloccare la skin che forse anzi in realtà ho già sbloccato. No, la skin è ancora qua. La andremo poi a sbloccare in un video a parte, mi raccomando, insieme ai pacchetti di reazioni. E le monete dovrei riscuotere molto molto semplicemente qui. E niente, dovrei aver riscosso tutto ciò che non sono casse, potenziamenti e robe strane. Come vedete abbiamo veramente accumulato tante tante casse. Siamo messi veramente bene con il farm del pass della scorsa season. Mi pare di aver riscosso tutte le ricompense che si potevano riscuotere. A parte qualche cassetta che abbiamo accumulato al di sotto. Ma diciamo che ci siamo. Ecco, parlando di Stu, sicuramente è un brawler molto molto interessante da provare. Ragazzi, veramente, secondo me, in particolare. Ve lo descriverei così. Vi faccio vedere un po' la meccanica. Si muove, spari, carichila ulti, spari, carichila ulti, spari, carichila ulti, spari, carichila ulti. Quindi molto molto dinamico come brawler. Anche la funzionalità del gadget lo rende ancora più dinamico. E niente, sicuramente è un brawler molto interessante da provare. Ve lo dico, non mi dispiace per niente. Il funzionamento è molto molto semplice perché appunto poi quando noi ci passiamo sopra andremo ad incendiare tutti coloro che sono stati nell'area sottostante per tot tempo. In particolare, guardate qua, 280 per tot, per un tot di tempo che mi pare siano 4 minuti se non erro una roba del genere. Bisogna poi andare a vedere bene perché non lo so neanche io esattamente. Il brawler è molto molto interessante. Vi consiglio, nelle mappe di footbrawl, è ottimo. Brawl Stadium, ragazzi, worka che è una favola. Che è una favola, guardate, non ve lo so dire per scherzo. Ma una cosa importante da farvi vedere è la nuova modalità che è Lega delle Stelle. Una nuova modalità molto molto interessante. Vi faccio un piccolo spoilerino. Se andiamo sulla Lega delle Stelle a squadre, questo è il mio, diciamo, record. Siamo messi molto molto bene. L'ultima partita che ho fatto dovrebbe essere appunto una vittoria su questa modalità. E ragazzi, sgravatissima, stupenda. Mi piace un botto. Fatta veramente bene. Adesso dobbiamo cercare di arrivare a sbloccare il loro 3. Che è il mio prossimo obiettivo. Ma il mio obiettivo sarà sicuramente Diamante 1. Devo dire che non è andata per niente male. Molto molto interessante. Ci sono queste che sono le classifiche. Abbiamo già persone che sono Diamante 3. Quindi che stanno scalando come si deve, sicuramente. In Italia mi pare che quello che sia al massimo è soltanto Giorgio H. Che è arrivato a Diamante 3. Quindi grande Giorgio H. GG per te. GG per te, bro. Gli altri sono praticamente tutti Diamante 2. Tranne alcuni che sono Diamante 1. Ma insomma, sicuramente molto molto interessante come tipo di game. Mi piacerebbe sbloccare ancora questa icona giocatore esclusiva. 25 partite. E questa Penny contrabandiera con 50 potenziamenti. Mi farebbe molto piacere. Dato che di Penny o soltanto mi pare la skin del Coniglietto Nero. Che per carità fa sempre la sua bella figura. Ma mi piacerebbe avere un qualcosa in più. Come vittorie 3 vs. Siamo a 14.553. Speriamo di arrivare il prima possibile a 15.000. Che sarebbe sicuramente il mio prossimo obiettivo. Mi piacerebbe avercela. Abbiamo nel profilo. Hanno tolto il record di Powerplay. Hanno messo questo qua. Quindi molto molto interessante. Detto questo, spero che il video vi sia piaciuto. Se fosse così, lasciate un pollice all'inizio. Supportate il video. E niente. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di queste nuove novità. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi.